Confermo, è vero, 500 euro extra per massimo tre mesi, ma solo per alcune categorie di lavoratori. Meno tasse su ceto medio e famiglie, family act e ripresa dei pignoramenti. Io sono Mr. Lul e adesso vi spiego tutto. Sigla! Un bonus extra da 500 euro per massimo tre mesi che va ad aggiungersi alle altre indennità covid già previste in questo periodo di emergenza. Non si tratta però di una novità assoluta, nel senso che quest'ulteriore indennità è stata prevista mesi fa dal decreto Cura Italia e oggi diventa finalmente operativa con la circolare 104 pubblicata dall'Inps. Nello specifico, il bonus spetta solo ad alcune categorie di lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, partita IVA e professionisti con cassa, che alla data del 23 febbraio 2020 svolgevano la loro attività oppure erano domiciliati o residenti nei primi comuni individuati come zone rosse in Lombardia e Veneto. Qui accanto vedete l'elenco completo. Poi meno tasse su cetimedi e famiglie, questo è uno dei punti cardine del piano di riforme italiano da realizzare con le ingenti risorse in arrivo dall'Europa. Una riforma complessiva si spera della tassazione diretta e indiretta per creare un fisco equo, semplice e trasparente e soprattutto più leggero per cetimedi e per le famiglie con figli. Il governo poi ha disattivato anche tutti gli aumenti di IVA e accise previsti dalle clausole di salvaguardia. Scade invece tra poco, anzi pochissimo, la tregua dei pignoramenti stabilita nel periodo di emergenza Covid. Dalla metà di ottobre infatti l'Agenzia delle Entrate e gli enti locali potranno avviare nuovamente i pignoramenti su beni mobili e immobili, stipendi, pensioni dei cittadini che hanno delle irregolarità fiscali. Insomma, almeno su questo si torna alla normalità. Detto questo, io come al solito vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video. Un saluto a tutti da Mr. Lull.